Qual è il film più esilarante del secolo? Moltiplicato per Kevin, è diviso per i due ladri più fessi del mondo. Fammi indovinare. Mamma, ho perso l'aereo. E quanto fa il film ancora più, 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 più spassoso? Moltiplicato per monop, diviso per grandotelle, meno, 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 i due ladroni sempre più fresconi. Fa, mamma, ho riperso l'aereo, mi sono smarrito a New York. Una prima, da urlo. Mamma, ho perso l'aereo. E mamma, ho riperso l'aereo. Stasera è il Medido Ottobre, canale 5.